Salve a tutti. È passato un sacco di tempo dal mio ultimo video di griffing. Negli ultimi mesi ho avuto molto da studiare e quindi non ho potuto fare griffate. Ma finalmente ora me ne sono liberato, e mi sono di nuovo potuto dare a questo passatempo. Questo video includerà, per ringraziare la vostra pazienza, non una, ma ben tre azioni di griffing in tre server diversi, gestiti da tre diversi addomine. Lo scopo di questo video infatti è descrivere le differenti tipologie di amministratori che potete trovare in un server di Minecraft. Ho già pubblicato una versione di questo cortometraggio pochi giorni fa, ma visto che l'audio fatto con Audacity faceva schifo ho deciso di eliminarlo. Farò lo stesso con i video della corsa insonne, che rifarò da capo su una nuova mappa usando per giocare il sistema Linux ormai perfezionato e per montare tutto Windows con le voci di Loquendo, che credo siano insostituibili. Inoltre cercherò altri siti oltre a Griffers Phone per pubblicare i miei video. Questa è un'azione di protesta contro i gestori di questo sito che hanno reso le sezioni del forum visualizzabili solo agli utenti registrati, tagliandomi di colpo le visualizzazioni. Prima era stato fatto di peggio con la nuova interfaccia e discutendo un po' hanno rimesso a posto, introducendo però quest'altra novità. Probabilmente aprirò anche una pagina Facebook e pubblicherò la mia roba non di griffing anche su Minecraft Italia, vedremo. La tipologia di admin più comune su Minecraft è quella degli admin hub, questa categoria è costituita soprattutto da bimbi minchia di 14-15 anni che, senza sapere una cipa di informatica, si mettono a mettere su un server per nerdare fra loro. Per noi griffer sono uno spasso. Non proteggono mai nulla, tengono spesso lava, acqua e OTNT sbloccati e se la prendono per ogni nostra provocazione bannando raffica gente che non ha fatto nulla. Il momento più divertente con loro è senza dubbio la fine della griffata. Quando ti beccano o ti fai beccare infatti si mettono a cristonare come dei dannati. Ora sono in un server gestito da uno di loro, guardate bene che fine fa questa pixel art. Il momento più divertente con loro è senza dubbio la fine della griffata. Il momento più divertente con loro è senza dubbio la fine della griffata. Il momento più divertente con loro è senza dubbio la fine della griffata. Il momento più divertente con loro è senza dubbio la fine della griffata. Il momento più divertente con loro è senza dubbio la fine della griffata. Il momento più divertente con loro è senza dubbio la fine della griffata. Il momento più divertente con loro è senza dubbio la fine della griffata. Il momento più divertente con loro è senza dubbio la fine della griffata. Ok, mi ha beccato. Probabilmente ha usato il Big Brother sulla statua che gli ho griffato prima, perché non era qui intorno. Per chi non lo sapesse, quella sigla significa, togliti dalle palle. Come potete vedere gli addomin nabbi non si smentiscono mai. Una sottocategoria degli addomin appena descritti sono quelli addormentati. Questi soggetti, oltre che dall'essere nabbi, sono caratterizzati dal fatto che non reagiscono a nessuno stimolo. Né quando un player gli chiede aiuto, né quando un griffer gli griffa il server, né quando qualcuno li sta malmenando. Eccoci nel server dell'addormentato. Come ogni buon nabbo, anche lui non ha protetto nulla. Né i forzieri né le costruzioni. Visto che notte sono senza equipaggiamento, mi sono rifugiato in una di queste, apro le ceste, e guardate il ben di Dio che ci trovo dentro. TNT, secchi, diamanti, ferro a volontà, e armi incantate. In teoria solo con queste cose potrei distruggergli il server. Poi però si sono accorti del furto e, temendo l'apocalisse, hanno disabilitato tutto tranne l'acqua. Quindi mi sono arrangiato con quella. Quindi mi sono accorti del furto e, temendo l'apocalisse, hanno disabilitato tutto tranne l'acqua. Quindi mi sono accorti del furto e, temendo l'apocalisse, hanno disabilitato tutto tranne l'acqua. Quindi mi sono accorti del furto e, temendo l'apocalisse, hanno disabilitato tutto tranne l'acqua. Quindi mi sono accorti del furto e, temendo l'apocalisse, hanno disabilitato tutto tranne l'acqua. Quindi mi sono accorti del furto e, temendo l'apocalisse, hanno disabilitato tutto tranne l'acqua. Quindi mi sono accorti del furto e, temendo l'acqua. Quindi mi sono accorti del furto e, temendo l'acqua. Quindi mi sono accorti del furto e, temendo l'acqua. Sono lì vicino, per cercare di farlo spostare, ma non si è accorto di nulla lo stesso. Guardate cosa gli dice un utente. Mi domando se tu sei l'addomin di questo server. Inoltre ha anche permesso che i ragni massacrassero un suo giocatore senza muovere un dito. Dopo avergli allagato tutto me ne sono andato via di corsa. Ora asciuga il tuo server. E sveglia. L'ultima categoria di amministratori nei server di Minecraft è quella degli addomini esperti. Questi sono in assoluto i più difficili da battere. Sanno usare le protezioni perfettamente, fanno un'attenta sorveglianza e non cedono alle provocazioni dei griefer. Eccoci un uno dei loro server creative. In questo server c'è anche un mondo di griffing, quindi potete ben immaginare come una domain, che conosce bene le nostre tecniche, sia difficile da fragare. Infatti tutti gli attacchi standard sono inutili. La lava e l'acqua non si espandono fuori dal lotto che ho acclaimato, così come gli alberi, e la TNT è disabilitata così come molti altri oggetti di questa modalità di gioco. L'unico modo che ho trovato per farmi chiccare da questo server è stato usare la tecnica anti-boot kit fill per andare a riempire di mattoni la strada e le costruzioni vicine, e comunque ciò non li ha mandati troppo fuori dai gangeri, sono furbi e non cedono alle provocazioni. Altre tecniche che ho usato con loro comprendono. Il fludo di paesani fatto con le uova di villico, le uniche attive, e l'adpack realizzato riempendo una dozzina di dispenser con bottiglia di esperienza e attivandoli tutti assieme con un repeater di pietra rossa. Il problema è che con queste tecniche non sono riuscito ad attirare l'admin nel mio lotto per fargli laggare il gioco, quindi non ho potuto fare granché, era molto furbo. Con quest'ultima missione questo video è finito. Ditemi cosa ve ne pare della nuova grafica nei commenti. Arrivederci alla prossima.